L'idea nasce dal fatto che noi della Gran Bretagna parliamo sempre in termini quasi trionfalistici, siamo abituati a vedere gli sfolgoranti via del centro, lo shopping, Buckingham Palace, la famiglia reale e non ci rendiamo conto che invece ci sono dei grossi problemi che sta vivendo questo paese, soprattutto in questo momento. È un paese che non sa più qual è la sua identità, è un paese che era abituato a vivere con la diversità, la multietnicità e adesso si scopre un paese che comincia ad avere problemi ad accogliere persone che vengono da fuori dei confini. Il problema dell'immigrazione si sente molto, il problema della identità europea si sente molto e ho sentito la necessità di raccontare queste cose al di là della mia professione giornalistica e siccome sono uno scrittore di gialli ho pensato che il modo migliore fosse proprio quello di creare una storia che fosse legata a questi problemi di attualità con ovviamente l'impronta gialla. La storia nasce dalla partenza di due ragazzi, una coppia di fidanzati poco più che ventenni che partono da Bologna per trasferirsi in Inghilterra e crearsi un futuro, trovare un lavoro, imparare una lingua diversa e iniziare una nuova vita. Sono Marco e Anna, questo è un piccolo omaggio a Lucio Dalla. Dopo circa una settimana, una notte, lui, Marco, si sveglia nel suo mini appartamento che divide con lei ovviamente, massacrato di botte, si mette a cercare la ragazza e la trova sul letto morta. La polizia archivia il caso. Passa un anno e nella stessa cittadina a Ipswich ricominciano i deliti. Mi sono ispirato all'uccisione di un ragazzo italiano che insieme ad un amico nel 2013 si spostò dalla provincia di Lecco per venire per andare in Inghilterra a lavorare e si chiamava Gele Leotta, aveva 19 anni e venne ucciso in circostanze poco chiare da un gruppo di cittadini lituani che fecero una specie di spedizione punitive, li chiamarono italiani di M. Insomma, un episodio caratterizzato anche da una forte connotazione razzista. Me ne sono occupato per il mio lavoro da corrispondente e mi ha toccato questo episodio soprattutto per la giovane età dei ragazzi italiani che erano venuti con tante speranze in Inghilterra. Mi ci sono ispirato solo per l'idea, naturalmente il mio libro non ha nulla a che vedere con quella storia, però l'idea nasce da questo fatto perché l'immigrazione oltre ad essere un grosso problema in Italia è un grosso problema anche per tanti paesi europei.